Simone Bertoletti, un successo di tappa alla maglia gialla, che bel giro della Val d'Aosta. Sì, è iniziato molto bene, diciamo che la nostra Val d'Aosta l'abbiamo già vinto come squadra. Siamo riusciti a tenere la maglia anche oggi, è stata una giornata difficile perché è molte fughe, il percorso adatto alle fughe anche, è molto duro, comunque alla fine ce l'abbiamo fatta anche oggi tenerla. Il sogno di arrivare in giallo d'Aosta è più vicino? Sì, più vicino, i distacchi si stanno limando ogni giorno, comunque speriamo insomma.